Buongiorno ragazzi, come andiamo? Spero bene, io ho appena ribilanciato il mio wallet, mamma mia se non ci fosse la Deserve Academy, come farei? Mi ero affezionato a delle cripto, non le volevo togliere per motivi stupidi, illogici, quando diciamo che l'obiettivo della Deserve Academy è estrarre il maggior profitto da questo mercato perché comprare delle cripto e aspettare il bull market più o meno farai dei guadagni, ma noi vogliamo fare guadagni che cambiano la vita, allora è fondamentale l'aiuto di un servizio come quello della Deserve Academy ragazzi bisogna essere svegli, sempre attenti, ovviamente io ho mille cose da fare, non studio questo mercato, però Alex e Manu sono sempre lì sul pezzo del loro lavoro e proprio recentemente, l'altro giorno, io poi l'ho fatto adesso, B1, vendere, cambiamo cripto, non ci affezioniamo a nessuno qualcosa che pensavamo avesse fatto performance maggiori, non li ha fatti allora sostituiamo perché vogliamo arrivare pronti ad avere il maggior profitto con il capitale che abbiamo, ok? Quindi se tu hai un piccolo capitale, o anche grande, ma vuoi fare risultati straordinari, da solo non puoi operare quindi io ti consiglio di entrare nella Deserve Academy, hanno praticamente, stanno togliendo il trimestrale, quindi hanno aperto, diciamo fino a stasera per chi vuole provare la Deserve Academy per tre mesi, lo può fare col 15% di sconto, poi non ci sarà più il trimestrale, ok? Quindi con 300 euro, 300 dollari potete provare ad entrare in questa realtà e vedere se vi trovate bene, poi rinnovate, altrimenti no però per gli scettici questa può essere un'occasione, ok? Stiamo parlando di un gruppo Telegram, di un Academy, con diverse sezioni ragazzi, dove all'interno c'è anche formazione ci sono videocorsi, ci sono le live settimanali, c'è la chat 24 su 24, ci sono le coach se prendete, diciamo un piano più, anche un semestrale, un annuale, avete anche, diciamo, delle coach direttamente con Alex e Manu ci sono tutta una serie di servizi, quindi facciamo una cosa, se sei interessato ti lascio in descrizione un form tu lo compili e io ti ricontatto, ci facciamo una chiacchierata e vediamo se può fare per te questa, diciamo, Academy se sei interessato a investire nel settore delle crypto ma non conosci, ovviamente vuoi imparare e vuoi scoprire dove noi, cioè dove Alex e Manu stanno investendo, loro condividono sono due trader professionisti, se mi segui è difficile che non hai sentito parlare della Deserve Academy perché io sono dentro dall'aprile del 2023, ok? e abbiamo costruito diversi wallet, un wallet con un K di budget, uno con 10 K di budget uno su i trend che andranno più in voga, ovvero l'intelligenza artificiale e l'RWA poi che cos'altro c'è? C'è anche un quarto wallet fatto di shitcoin cioè quei progetti a bassa capitalizzazione che performeranno, che succede sempre in ogni bull run in maniera esponenziale, ok? sono tutti portafogli costruiti per ottenere il massimo, ok? e poi vieni seguito giorno dopo giorno, anche se c'è da fare un ribilanciamento togliere qualcosa, mettere un altro perché le condizioni di mercato sono cambiate perché questo mercato va veloce, noi siamo sempre sul pezzo, siamo seguiti Manu, the wallet man, colui che costruisce wallet, che sta accumulando, anche Alex stanno accumulando per loro stessi e stanno condividendo in più sei dentro un luogo che ti forma, ti istruisce, ti fa le analisi quotidiane se succede qualcosa ti spiega quello che sta succedendo così non vai in panico cioè è davvero difficile questo settore sulla carta sembra facilissimo, no? metto quando magari sei già stato, hai già vissuto dei cicli precedenti ti dicevano vabbè compro e poi aspetto la burrana sì ma ci sono una serie di difficoltà perché entrano in gioco le emozioni magari un momento sei in rosso e pensi se non sei un po' esperto è un macello, poi soprattutto il problema è quando vendo perché poi quando arriva l'euforia ti senti Dio, senti che andrà sempre tutto su e poi va tutto giù e tu rimani col cerino in mano è piena la storia di questo mercato di gente che aveva i portafogli gonfi 400, senti queste storie, aveva 400 l'ha trasformato 10.000 dollari in 100.000 aveva 100.000 dollari e hanno diventato un milione e poi non ha venduto cretino perché poi noi vogliamo portarci a casa il profitto tutto questo lo facciamo perché è un mercato che ci può dare la possibilità la possibilità di trasformare una piccola cifra in una cifra enorme ok? è l'unico mercato perché la borsa tradizionale risultati del genere ci vogliono 30 40 anni invece le cripto te lo possono permettere ma devi sapere dove mettere i soldi per estrarre il massimo profitto ed è questo secondo me il valore aggiunto maggiore secondo me uno entra nella Reserve Academy proprio per questo per formarsi per imparare per scoprire e per capire dove investire nei progetti che ti daranno il massimo profitto ok? non per questo il wallet da 1000 ha come obiettivo 100.000 il wallet da 10.000 ha anche come obiettivo 100.000 poi gli altri wallet non hanno un obiettivo sono diciamo tematici ok? però l'obiettivo generale è sempre quello di estrarre il massimo quindi vieni seguito ti dicono quando comprare, quando vendere, quando ribilanciare c'è l'analisi on-chain in base che è fondamentale perché in base a dove sono le cripto nei wallet wallet o negli exchange tu capisci stanno le balene per vendere perché che aria tira e da lì tu ti puoi orientare senza tutto questo io la vedo dura puoi fare qualche soldo sì ma stiamo parlando di estrarre il massimo profitto quindi se ti interessa c'è questa occasione entro oggi ultime 24 ore e poi il trimestrale scomparirà puoi entrare per 300 dollari e vedi hai accesso ai wallet però poi non ha senso cioè io già te lo dico entra dai un'occhiata ma poi dovresti rinnovare perché è un percorso che da qui fino al 2025 ti serve ok? però per gli scettici c'è questa possibilità c'è poi lo sconto del 15% su tutti gli altri piani cioè il semestrale, l'annuale e il lifetime diciamo da qui fino a quando non usciamo dal mercato ok? se sei interessato ti lascio il form semplicissimo in descrizione lo compili e ci facciamo una chiacchierata poi se vuoi entrare entri solo oggi sabato 11 maggio fino a mezzanotte hai la possibilità di entrare per 300 dollari facciamo così tu lasci le mail io ti lascio tutte le istruzioni del pagamento ti mando un whatsapp poi se vuoi fare la call tu me lo dici no voglio farti delle domande ok? quindi per tutti quelli che sono interessati lasciate i vostri dati vi arriva un messaggio con tutte le istruzioni per il pagamento e poi mi dite se volete fare una call avete delle domande però affrettatevi perché 300 euro 300 dollari 300 USDT per il trimestrale è entro la mezzanotte di oggi 11 maggio ok? tutti gli interessati ragazzi coloro che vogliono prendere un piccolo budget ed estrar e lo vogliono destinare alle cripto e vogliono estrarci il massimo profitto possibile ok? quindi devi sapere quali cripto faranno un per cento un per mille noi anche abbiamo le shitcoin le mmcoin qualcosa perché vogliamo fare profitto e poi vogliamo vendere tutto e fare profitto avete anche tutta una parte c'è l'angolo della sicurezza dentro Radio Serm Academy dove c'è un super esperto che ti spiega come custodire le tue cripto in modo sicuro ci sono incontri con fiscalisti ne abbiamo fatti già 3 o 4 adesso il prossimo con fiscalisti italiani su come poi fare tutta la parte fiscale della dichiarazione e del poi cash out come prendere in maniera corretta legalmente i profitti dalle cripto dichiarare e pagare quello che bisogna pagare c'è tutta una serie anche di ci sono le registrazioni di altri fiscalisti internazionali per tutti quelli che vogliono perché magari in Italia non vuoi pagare il 26% vuoi andare c'è formazione anche su questo tutte le opzioni che hai come fare in Italia come fare all'estero cioè cosa vuoi di più vai in descrizione e lascia i tuoi dati e io ti ricontatto e ci vediamo dentro la Deserve Academy ti aspetto prova almeno 3 mesi ce l'hai a 300 dollari e ci vediamo dentro ti aspetto ciao